Cari amici, ascoltatori, benvenuti e bentrovati. Siamo di nuovo qui insieme pronti a partire ad affrontare una nuova intervista, una nuova storia e siamo all'interno anche questa volta della nostra importantissima rubrica medicina regionelazio.it dedicata alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla cura di tanti aspetti e stiamo per affrontarne di molto interessanti anche oggi. Mi trovo in compagnia di un odontoiatra, parleremo in particolare di endodonzia, tanti aspetti correlati e importanti da sapere per ciascuno di voi e faremo tutto questo con la dottoressa Emanuela Faitelli, benvenuta all'interno della rubrica medicina regionelazio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Salve, un saluto a lei, grazie a lei di essere qui e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo subito. Che cos'è l'endodonzia e cosa va direttamente ad affrontare? L'endodonzia è una scienza medica che si occupa esattamente dei tessuti interni del dente e ovviamente anche la terapia e le patologie. Per tessuti interni del dente si intende la polpa dentale. La polpa dentale è il famoso nervo, diciamo così. È un sistema un po' più complesso perché oltre al nervo abbiamo vene, arterie, tutto il sistema che rende vivo il dente. Quindi la sensibilità e la resistenza. Tutto quello, insomma, dottoressa, non visibile che si trova all'interno come in altre parti del nostro corpo ma che costituisce il meccanismo perfetto alla base, tutto il sistema. Il dente. Tante informazioni, tanti aspetti in maniera veloce ed efficace. Tante cose mi vengono in mente, dottoressa Faitelli, ma nello specifico abbiamo un po' introdotto generalmente cos'è l'endodonzia, aspetti più importanti da considerare nel suo trattamento. Endodontico. Bene, come hai detto prima, quando una carie diventa così profonda da arrivare al tessuto pulpare, ci può essere il famoso dolore acuto. La pulpite, eccoci insieme. Esatto, a gran voce. Ricordi, perché l'ho vissuta anche io come tantissime persone, penso sia uno dei dolori in assoluto più fastidiosi, più intensi. È il dolore numero uno del corpo umano insieme alla colica renale. Bravissima, sono d'accordo. È insostenibile. Il parto viene per dopo. No, è insostenibile, si gonfia tutta la parte interessata, vabbè, lasciamo perdere. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna devitalizzare il dente. Per devitalizzazione intendo la rimozione del completo sistema endodontico, del famoso nervo. Sì. Perché farlo bene? Allora, bisogna rimuovere l'intero nervo, disinfettare perfettamente il sistema, il canale radicolare e chiudere il canale perfettamente con gutta perca e cemento endodontico. Questo permette di conservare l'integrità delle radici e del dente stesso e di evitare infezioni postume. Quando la carie è profonda e appunto arriva al nervo, il nervo è infetto, quindi può generare infezione. E quindi questo sistema noi lo dobbiamo disinfettare e mantenere perfettamente pulito, in modo tale che il dente poi si conserva nel tempo con un'adeguata ricostruzione. Sì, e ci vuole anche volontà in questo, perché mantenere i denti sempre puliti richiede stare lì anche un po' più di tempo a strofinarsi. Delicatamente, in un certo modo, insomma, tanti aspetti, no? Qui introduciamo un altro concetto che è la prevenzione. La prevenzione è fondamentale, ovviamente. Una visita dal dentista con un igiene orale, due radiografie, due bite di controllo, almeno ogni sei mesi andrebbero fatte, proprio per evitare quelle carie destruenti che poi portano alla terapia canalare, alla devitalizzazione. Altro presidio importante che sottolineo cento volte, per cui c'è anche un progetto nazionale che si chiama Progetto Diga, ogni volta che affrontiamo una terapia conservativa, vuoi che sia una semplice ricostruzione, otturazione, vuoi che sia una terapia endodontica, è importante che il medico dentista applichi la diga, la famosa diga di gomma, che è un foglio di plastica, diciamo così, un foglio di gomma che viene ancorato ad un teletto metallico e viene agganciato al dente, in modo tale che il dente da curare è perfettamente isolato, non viene a contatto con la saliva, che è ricca di batteri, ovviamente, è una delle cose più sporche che abbiamo all'interno del corpo umano. Eh, purtroppo sì. E quindi il dente viene disinfettato perfettamente e viene sterilizzato, il sistema endodontico viene perfettamente sterilizzato, e quindi non abbiamo il rischio di infezioni postume. Vero, vero. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare, ma proprio riferendoci ancora agli aspetti, per ultimare la nostra intervista, sani e preziosi consigli che possiamo dare a tutti coloro che sono in ascolto, sintonizzati con noi all'interno della nostra rubrica, per prima di tutto prevenire, perché come si sa sempre, prevenire è meglio che curare, però se ci si trova di fronte, ahimè, a una situazione, a uno stadio piuttosto avanzato, si interviene anche con una cura efficace, ma per tutto questo cosa bisogna considerare? Per tutto questo, appunto, come ho detto poc'anzi, il controllo e la prevenzione sono fondamentali, quindi il controllo consiste nel effettuare delle radiografie, due bite wing, di controllo per valutare se ci sono lesioni cariose, e soprattutto affidarsi, per quanto riguarda l'endodonzia, a degli specialisti che eseguono la terapia con dei criteri e con dei materiali oggi assolutamente innovativi. Io faccio parte di una società, la Società Italiana di Endodonzia, che è una, diciamo, una associazione specialistica che si occupa di migliorare le conoscenze nell'ambito dell'endodonzia. C'è un sito in cui tutti quanti possono andare a trovare lo specialista più vicino alla propria casa, diciamo così, proprio per avere l'eccellenza nell'ambito di questa scienza medica. Certo, certo. Io le faccio complimenti perché, insomma, fa parte di tutto questo e sicuramente arricchisce e valorizza ulteriormente il suo lavoro e la sua figura professionale. È una figura estremamente seria, di tutto rispetto, insomma, è venuta qui nella nostra rubrica a delucidare me, in primis che sono accanto a lei, dottoressa, e anche tutti i nostri ascoltatori. E non è mai abbastanza sapere sempre di più per quanto riguarda la cura, la salute e la prevenzione dei nostri denti. Rendiamoci cura di noi stessi, i nostri denti, perché il sorriso, insomma, è anche un ottimo biglietto da visita nel quotidiano. Siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Prima di salutarci, ricapitoliamo i contatti della dottoressa Emanuela Faitelli, odontoiatra. Abbiamo parlato oggi all'interno della rubrica di endodonsia. Il numero fisso dello studio 0682 003408, l'indirizzo via Ugo Oietti 350 Roma. La pagina Facebook dottoressa Emanuela Faitelli, visitatela numerosissimi, mi raccomando, mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile, fate girare. All'interno foto e descrizioni sempre efficaci ed aggiornate. Riguardanti la sua attività di odontoiatra, rientra anche all'interno di tutto questo l'endodonsia, sicuramente. Quindi condividete, più siete meglio è, vi renderete conto di parecchi aspetti. Il sito web, faitelli-dentista.com, un sito completo a partire dalla home page e poi sfogliando le varie pagine interne, navigando una per una, rivedete alla fine di un sito chiaro, completo, costruito ad hoc, strutturato in maniera efficace. Insomma, la sua struttura e organizzazione rispecchia d'altronde l'efficacia e l'organizzazione di tutto il lavoro di odontoiatra, della dottoressa Emanuela Faitelli. Per concludere l'indirizzo email, emanuela.faitelli2.gmail.com. Abbiamo davvero concluso, un saluto e un ringraziamento ancora alla dottoressa Emanuela Faitelli. Grazie Riccardo, buonasera a tutti. Grazie a lei, un saluto a tutti.